Oggi schirole perché vengo da qualche allenamento di corsa di trail in montagna quindi lo schirole ottimo per recuperare sia a livello fisico che anche mentale, ideale perché non si hanno carichi impertanti nella ginocchia e nella caviglia, fantastico e molto divertente Oggi ho scelto per l'allenamento il bull, il mitico bull della Skis Cat perché grazie alla sua gomma che è larga e anche abbastanza tenera va molto bene sia nell'asfalto ruvido in più smorza molto le vibrazioni e in più nell'asfalto sembra proprio galleggiare. Per chi vuole provare basta venire in negozio al Tutto Sport Requaro dove abbiamo il noleggio dello schirole sia da skating che da passo alternato e poi facciamo anche i ricorsi basta contattarci sui mezzi social oppure per cellulare. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!